Ciao a tutti, allora questo sarà un video chiacchierizzo, ne accennavo l'altro giorno su Instagram ed è un argomento al quale tengo particolarmente non c'entra, cioè è sulla battuta dal canale però è una cosa che mi preme particolarmente per cui se può servire anche solo a pochissime persone che magari la prossima volta che faranno battute del genere magari ci pensano su un attimino di più, io avrò raggiunto il mio scopo non sono da cosa iniziare, non mi sono preparata a nessun discorso però andrò a braccio, vado un po' veramente di pancia fondamentalmente allora il discorso è questo, io non credo di potermi definire astemia perché ho scoperto, credo che la parola astemia significhi che una persona che non può bere alcolici, che gli alcolici magari gli fanno male eccetera eccetera io di solito mi definisco così per semplicità però in realtà il discorso per me è che semplicemente a me non piacciono gli alcolici non piace la birra, non mi piace il birra, qua mi sembra di ripetere quello che ripeto da quarant'anni alle persone no non mi piace neanche la birra, no non neanche un bicchiere, no né super alcolici, non mi piace il sapore non mi piace neanche tantomeno la sensazione che l'alcol mi dà in gola questo ovviamente si sente più nei super alcolici ma in generale e non mi piacciono per una questione di gusto se voi avete qualcosa che non mangiate perché non vi piace il sapore tipo di cibo intendo tipo i broccoli, faccio un esempio, anche se so che sono molto amati non mi piacciono i broccoli, non li mangio perché non mi piacciono, punto ecco per me per gli alcolici vale lo stesso però questa cosa qui la mia riflessione, dov'è che vi voglio portare? io vi voglio portare alla riflessione che venire presi in giro perché non si beve è qualcosa che all'allungo risulta veramente fastidioso, frustrante io devo essere sincera sono veramente piena ma piena rasa come dice il camioc però io volevo farvi capire, vorrei farvi capire quanto la domanda che puntualmente arriva ah ma tu non bevi, come mai? è indelicata perché se al posto mio beccate una persona che magari risponde come rispondere io ma magari vorrebbe rispondervi io non bevo perché ho dei gravi problemi di salute non posso bere oppure sono un ex alcolista ho problemi simili quella persona intanto non è tenuta a spiegarvi il perché tanto per cominciare qualsiasi sia la motivazione a maggior ragione c'è una motivazione seria voi non potete sapere se quella domanda apre le porte in realtà a qualcosa di più profondo e di più doloroso per quella persona io lo metto sullo stesso piano magari mi sbaglio ma non lo vedo così differente a livello emotivo intendo come fare la domanda a una persona come mai non ha ancora fatto figli o cose del genere perché quella persona lo chiedete a me stesso discorso me ne frega niente perché vi rispondo non ne ho mai voluti punto ma magari beccate quella persona che ci prova da anni che non c'è riuscita che di questa cosa soffre magari ho appena perso un bambino magari è incinta e non ve lo vuole dire cose del genere è veramente fastidioso è veramente antipatico è veramente fuori luogo questa cosa io vorrei che in qualche modo piano piano iniziasse a diffondersi anche per questo discorso dell'alcol ultimamente poi se ne sta parlando tantissimo perché non che non si sapesse però improvvisamente se ne sta parlando tanto perché vogliono scrivere sulle bottiglie sulle confezioni esattamente come per le sigarette che noi c'è la salute perché l'alcol mai da moche si sa che è un cancerogeno certo quindi di questa cosa se ne sta parlando tanto e magari alzare l'attenzione su questo argomento può essere utile anche per questo io però ci tengo a chiarire una cosa io non ho mai rotto la minchia a nessuno per quando beve a meno che questa persona non debba riaccompagnarmi a casa allora a quel punto sì che gliela rompo la minchia ma io non rompo a nessuno perché nel momento in cui tu bevi e io no nella mia vita non cambia niente a meno che tu non debba riaccompagnarmi a casa nel momento in cui invece tu fumi e io no e siamo nello stesso spazio lì sì allora lì sì che ti rompo la minchia però a chi beve io non ho mai rotto le palle sinceramente perché è una scelta a me non cambia niente a volte io per scherzare cercando di drammatizzare di togliermi di palle l'ennesima volta che mi chiedono ah ma neanche un bicchierino no neanche un bicchiere se non mi piace non vedo perché devo averlo a volte rispondo ma perché mi risparmio queste calorie per un'altra cosa per mangiare schifezze questo è un altro motivo per cui non mi sognerei mai di rompere le palle a una persona che beve perché sì sono calorie vuote è cancerogeno ma voglio dire io non penso di poter fare la morale a qualcuno perché sono sicura che io faccio molte altre cose di dannose per la mia salute mangiare schifezze fritti eccetera eccetera non sono una salutista per cui non posso fare sicuramente la morale a nessuno e meno male direi che così insomma sicuramente non mi si può dire di risultare pesante o meno però ecco io a volte mi trovo a dover rispondere tipo così eccetera ma vi giuro che certe volte è veramente pesante a me è capitata ne sono capitate tante di situazioni antipatiche fastidiose tante veramente e ne ho lezze diverse che mi sono state mandate su instagram allucinante che sono rimasta allibita vi racconto brevemente una di quelle che è capitata a me mi sa che ve l'ho anche raccontata in qualche video ma ve lo racconto di nuovo qua ma è uno degli esempi solo perché è il più il più recente me lo ricordo ancora abbiamo fatto un'escursione a fine escursione andiamo in questo ristorante nel modenese eravamo al tavolo eravamo solite persone che ormai mi conoscono quindi a cui ogni persona ognuno di queste avevo già spiegato che non bevo anche se puntualmente ah vero tu non bevi ah vero c'è sempre qualcuno che sempre deve ribatterci sopra c'era una persona nuova quando arriva il momento di ordinare ovviamente c'è la scelta del vino eravamo una decina forse di più mi ignorano che alzo la mano sì scusa mia la cameriera devo ordinare anche io allora io ordino la mia coca zero che io bevo la coca zero perché mi piace non perché sia zero ma perché mi piace di più il gusto di quella della coca zero e me bere la coca zero mi dà soddisfazione godo fisicamente se voi godete fisicamente bevendo uno spritz bevendo una birra un bicchiere di vino io godo fisicamente con la coca zero e non voglio sentirmi giudicata per questo questa la cameriera già pure vabbè fa la sua faccia la faccetta del cazzo questa persona nuova mi dice ah ma come non bevi e io no non bevo non bevo alcolici ma neanche un bicchiere di vino se ti sto dicendo che non bevo perché non bevo e continuo ancora a ribattere ho detto oh basta non bevo punto non mi piace non mi piace bevo la coca ah lascia c'è bisogno di stare qua a discutere tre ore questa cosa cominciano a portare portano il vino cominciano a portare gli antipasti la mia coca ancora non si vede al che alzo la mano dico alla cameriera scusa sto aspettando ancora la coca cola si mette a ridere e mi dice ah mi ero dimenticata ho detto cazzo ridi scusa cioè non ci trovo nulla da ridere ma perché era sempre a modi sfottò quella risata lì e questo è un esempio per dire che ogni volta il fatto che io non bevo alcolici purtroppo spesso sono l'unica del gruppo è un motivo di presa in giro come se il fatto che io non bevo alcolici mi impedisca di socializzare con le persone mi impedisca di poter chiacchierare non lo so cioè come se fosse scontato che se c'è un'occasione di socialità si debba bere alcolici mi è capitato di sentire storie di persone che magari costretti da problemi di salute quella settimana lì è una settimana sola per dire non possono bere alcolici tipo se prende tanti biocci e cose del genere magari gente che si priva di uscire perché altrimenti deve dare spiegazioni perché non vuole essere tentato e cose del genere perché la gente non è capace di rispettare una scelta una scelta sia una scelta o anche una situazione del genere ma a voi sembra normale perché a me francamente non sembra normale per niente vogliamo parlare della gente che scrive che ogni tanto vedo scritto da qualche parte o anche meme che a me personalmente non fanno ridere con frasi del tipo non mi fido degli astemi non mi fido di chi non beve un bicchiere di vino seriamente stiamo dicendo che questo è un motivo per non fidarsi di una persona cioè se io lo mettessi su questo piano quindi non di gusto perché non mi piace il vino perché non mi piace la birra se io dicessi no io non bevo vino non bevo birra non bevo alcolici perché sono cancerogeni tu veramente mi puoi prendere per il culo per questo spiegatelo perché sinceramente non ci arrivo comunque io qui in questo video ribadisco non sto facendo la morale a chi beve è una scelta così come è una scelta mettersi sotto il sole senza protezione solare sappiamo che è cancerogeno così come chi fuma sa che è cancerogeno e per scelta sta fumando così come mangiando zuccheri e fritti anche io sto mangiando i fritti sicuro lo zucchero è un altro discorso però sto mangiando qualcosa che non mi fa bene alla salute è una cazzo di scelta però nessuno mi viene a dire ma dai ma veramente ti stai mangiando i fritti no chiedo a gran voce magari non ci incontreremo mai con voi che guardate questo video però per favore evitate di prendere in giro fare domande stupide o commentine battute stupide se nel vostro gruppo c'è qualcuno che non beve perché è veramente antipatico è veramente antipatico è spiacevole e ogni volta anche nei brindisi fanno un brindisi io ho la coca non puoi brindare con la coca cola perché cos'è superstizione c'è un fondamento scientifico per cui non posso sorridere ad un brindisi con la mia coca cola nel bicchiere alla mia laurea io ho brindato con la coca cola e non ho voluto sentire cazzi c'è la gente che mi guarda si ebbe come come faccio perché come faccio è la mia festa di laurea posso fare qualcosa che mi rende felice sì allora non devi rompere i maroni devo dire che fino a diversi anni fa sì mi dava fastidio però ero abituata come dire adesso sono veramente stufa sono stufa e ho deciso che magari con amici cioè dipende dal contesto ma se mi dovesse capitare una situazione come quella che vi ho raccontato prima con un estraneo io penso che la prossima volta risponderò sono un ex alcolista sono boh non lo so mi inventerò qualcosa di grave anche se non mi piace l'idea perché è un po' come cioè non mi sembra rispettoso nei confronti di chi magari quei problemi ce li ha davvero però mi piacerebbe far sentire una merda quella persona così la prossima volta ci pensa due volte prima di fare questa domanda che non per forza l'alcol a unire le persone non deve essere un qualcosa che non fa neanche bene alla salute a unire le persone e non c'è bisogno cioè il fatto di non bere alcolici non mi rende più più o meno simpatica cioè non è non parte da quello anzi se la vogliamo dire tutta ci sono persone che da brilli in realtà non sono simpatici non sono più simpatici sono persone che stanno male stanno più male quindi io non voglio non mi dover fate come il cavallere nero citazione Gigi Proietti alla stena non gli dovete romper il ca ma boh buttiamo la sua idea in realtà sono molto seria e spero che veramente voi ci pensiate due volte la prossima volta prima di scherzare su questa cosa perché la trovo veramente assurdo spero che piano piano magari prima o poi si cambino si cambia la testa delle persone in alcune regioni sembra qualcosa di improponibile a Belluno ero con Giorgia eravamo in un Malga cos'era un ristorante lì sulle Dolomiti non vi dico come sono stata guardata dal tipo del ristorante la trattoria quando ho detto che non beveva alcolici perché voleva portare la grappa Giorgia aveva preso la grappa sono stata guardata con una faccia che mi sono messa quasi paura della serie devi bere perché ecco un'altra cosa che scusate mi viene in mente adesso sapete quante volte mi sono costretta a bere uno sprizzo o qualcosa per sentirmi parte del gruppo perché ero veramente mi ero veramente rotta i coglioni al punto che ho detto ma sai che ti dico vabbè io me lo prendo perché non è che non riesco a berlo riesco anche a berlo ma per me è quasi una mezza violenza perché non mi piace il sapore quanto io possa godere nel bere una bicchiera di coca cola non godo bevendo lo spritz e perché devo fare così perché mi devo fare sta violenza per me non è normale che io mi sia sentita costretta psicologicamente a prendere un alcolico solo per sentirmi non sentirmi prendere per il culo e sentirmi il mio agio per me non è assolutamente normale soprattutto io mi stavo costringendo a bere qualcosa che non mi piace e che mi fa anche male alla salute perché devo aggiungere questa cosa a tutto il resto non bevo poi tra l'altro ecco il top dei top quando bevo la coca cola e gli dicono ah perché pensi che quella ti faccia bene e che cazzo vuol dire quindi tu mi stai giudicando perché io non sto bevendo l'alcol ma coca cola e pensi che quella mi faccia peggio non venitevi a scrivere questi commenti qua perché vi giuro che vi blocco se mi venite a criticare perché bevo la coca cola io vi sto dicendo che non voglio rotta non voglio rotta le palle per questo non bevo non fumo ma lo potrò bere un bicchierre di coca cola perché mi piace quello cioè io vi sto semplicemente dicendo di evitare di fare quelle domande là di prendere in giro e di continuare di fare la vostra vita ognuno corrisponde alle proprie azioni e ne piange anche le conseguenze però non si può dire che non ne sia consapevole ecco questo è quanto basta direi che è durato anche troppo questo video so già cosa mi aspetta perché non è che non lo sappia però ripeto magari può servire a portare qualcuno di voi a pensarci due volte la prossima volta che prenderà in giro farà delle battute sull'amico o l'amica astemia che non beve tutto qua io vi saluto ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.